Una buona serata da Bruno La Voce di Roma. Volevo soltanto così rievocare qualcosa che è stato emanato da me qualche mese fa, anzi 5-6 mesi fa, parlando dei ragazzini che si sono trovati a giocare nel loro cortile a pallone, un cortile, ragazzini eh, ragazzini è un cortile che guarda caso è un cortile di Palazzo Ghigio, come una bella fanciulla che veniva accompagnata con i propri genitori a passeggio sopra la piazza del Campidoglio, quella carrozzina dove portava a spasso Barbie e quant'altro e poi è catapultata a diventare sindaco di Roma. Bene signori, questo è il risultato di quello che stiamo vivendo. Mi spiace ahimè per quello che sto dicendo, però ragazzini che giocavano nel proprio cortile che non era il cortile di casa, ma era il cortile di Palazzo Ghigio e sono stati catapultati a fare quello che oggi vediamo, ahimè, con molta desolazione. La stessa cosa per quanto riguarda Virginia, a Virgine voglio bene, ha inaugurato oggi il corridoio della mobilità che ci è stato fatto, rifatto, rifatto, rifatto da tanti anni, vabbè, prenditi questo merito, sperando che la laurentina si sblocchi. Ve voglio bene eh, un abbraccio a tutti eh, ciao a Sindaca di Roma, un casino, la Madonna, un casino, la Monnezza, un bacello, ti stanno massacrando. Ciao, un abbraccio.